Ciao a tutti, in questo video potete vedere molto di sanda, ma non solo. Ciao a tutti dal deserto, sul sud di Corellico. E come potete vedere è molto vento oggi anche. Ma credo me, è meglio con il vento, perché senza il vento è un hoveno, non è impossibile restare qui. È molto grande. Il vento, il vento, il vento sono davvero davvero forti. È meglio mettere qualcosa, perché è tutto bianco e la riflessione è molto alta. è molto grande. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.